Renato Perrini è candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia, con il candidato presidente Raffaele Fitto. Siamo in questa meravigliosa location, siamo dinanzi al palazzo di città di Taranto, abbiamo il castello aragonese, questa location, queste immagini ci fanno parlare, ci fanno pensare al turismo. Cosa manca a Taranto per far esplodere il turismo? Perché in tante altre parti della nostra Puglia il turismo comunque cresce, qui c'è qualcosa che non va a velocità elevata. Mangano prima di tutto le infrastrutture, perché un'autostrada non si può fermare a Massafra, manca un aeroporto che per 15 anni, 20 anni di promesse ancora sta alla fermo, manca una serie di situazioni positive per portare a fare esplodere questo territorio, ma manca anche soprattutto la spinta imprenditoriale. Caro direttore, sto vedendo che piano piano sta anche crescendo questo modo di fare dell'imprenditura, si sta cominciando anche a capire che bisogna diversificare, c'è un'alternativa alla grande industria che è il turismo. Io vedo molta positività nei giovani, io guarda oltre al campo sanitario che è una delle mie battaglie principali che continuerò a fare è stare vicino ai giovani, perché vedo nei giovani il futuro, sono loro che hanno una marcia in più, perché in un momento come questo negativo in tutti i sensi sta cominciando a nasce nei giovani un senso di riscatto, perché il cosiddetto posto fisso non c'è più e bisogna cominciare anche a investire e anche a rischiare, perché chi rischia adesso può procedere a fare qualcosa in futuro.